presentazione dei prodotti della linea forum di fm group anticalcare universale indispensabile per la tua casa rimuove accuratamente il calcare e i depositi di calcio dalle superfici il prodotto è altamente efficiente ed efficace grazie ad una formula concentrata a base di acidi per pulire un bollitore riempilo d'acqua prima di utilizzare i prodotti della linea forum di fm group legge attentamente le istruzioni d'uso versare 50 ml di prodotto in un litro d'acqua accendi il bollitore porta l'acqua ebollizione e lascia agire il prodotto per 30 minuti successivamente rimuovi la soluzione risciacqua abbondantemente il bollitore in caso di sporco ostinato ripetere l'operazione il prodotto non contiene ingredienti di origine petrolchimica profumi sintetici coloranti conservanti né ingredienti geneticamente modificati b Grazie a tutti.